Il valore di un paese è dato da come tratta le donne. I commenti vergognosi sul nostro corpo. Il disprezzo delle nostre ambizioni. E delle nostre intelligenze. Pensiamo tutti sia una vecchia storia. Ma sentiamo ancora le stesse cose. La convinzione che a una donna si possa fare quello che si vuole è un atteggiamento crudele. Il valore di un paese è dato da come tratta le donne. Parliamoci chiaro. I uomini veri non hanno bisogno di sminuire una donna per sentirsi forti. È il momento di dire che il troppo è troppo. E questo deve finire adesso. Questo deve finire adesso. Questo deve finire adesso. Questo deve finire adesso. Deve finire adesso. Adesso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.